Era già un lusso la polenta, testimonianza di Giovanni Battista Ponzo, detto carabin, nato a Canosio, classe 1888, contadino e muratore. Come si viveva nei tempi di una volta? Male, male, malissimo. Si faceva il pane di autunno, ai Santi, con forme alla famiglia, sette e otto fornate, una settantina di pagnotte. C'era un forno per tutto il paese di Canosio. Il pane si conservava sul fienile, nei rastrelli di legno e serviva per tutto l'anno. Il pane di segala, il pane duro. Mangiavamo tante patate, la marmitta sul tavolo, tutti attorno a pelarle con le unghie. Magari c'era una briciola di sale in un pezzo di carta. Allora si toccava il sale con le patate. Ricordo ancora le mie tre zie. Andavano a zappare nei campi vestite con il costume, con il grembiulone e i pizzi. E raccoglievano i gravaium, una specie di patatine selvatiche. Le mettevano poi a cuocere in un paiolo. Io avevo dieci anni. Raccoglievo sempre delle radici grosse, bianche. Avevo fame e le trovavo buonissime. E i assetu e i chambrabruc mangiati asciutti, la polenta era già rara. Bisognava già avere i soldi per comprare la farina. Era già un lusso la polenta. Mangiavamo tagliatelle di lenticchie e di orzo. Facevano un brodo scuro. E buono che era, la pignatta era sempre vuota. Chi aveva delle vacche faceva la leità. La leità si metteva dentro alle scodelle di terra rossa. Piatti non ne avevamo. E poi si sbriciolava un po' di pane duro dentro. Oppure, nella pignatta con la leità, si aggiungeva un po' di pane grattato. E si faceva cuocere. E si moriva una gallina. Preferivano buttarla via. Ma non fare il peccato di gola. Non abituarsi al gusto. Non la mangiavano. Queste cose le ho viste. Le ho vissute io. Con grano saraceno si faceva la polenta verde. Buona anche la polenta di grano saraceno. A partire dalla montagna alta a venire giù era tutto rosso di grano e di segala. Tutto lavorato. Tutto zappato a mano. A Sant'Anna si finiva i fieni e si cominciava a tagliare il grano. Chi portava giù la roba con l'asino e chi sulla schiena. Un anno, con buon'anima di mio padre, abbiamo portato giù 116 fagotti sulla schiena. Fagotti di 50-60 kg l'uno. Ogni viaggio dai campi a qui durava mezz'ora. A battere quelle fascinette di segala e di grano usavamo il legno. Non ne perdevamo una sola spiga. La maggior parte della gente viveva così. Tutti vivevano così. Mio padre e mia madre avevano conosciuto una miseria più grossa della mia. Avevano affittato una baita sopra Preit e vivevano lassù con due vacche. Quando c'era la festa di Canossio mia madre dava a mio padre un latticino. Mio padre da sopra Preit scendeva al paese con il formaggio, andava a comprarsi uno sfilatino di pane e festeggiava così il giorno della Madonna. Eravamo dieci in famiglia. Padre, madre, tre zie, tre sorelle, due fratelli. Abitavamo già qui, in questa casa a Canossio. Ci mettevamo tutti seduti accanto al fuoco e se la fiamma del lumino a olio era troppo grossa la tiravamo indietro. Oggi abbiamo la luce elettrica e diciamo che non è abbastanza bella. Buonanima di mia madre accendeva il fuoco con un fiammifero di legno e poi conservava il fiammifero usato. Il giorno dopo, quando doveva riaccendere il fuoco, se trovava ancora un carbonette, un pochino di brace, adoperava il fiammifero usato. Così risparmiava. Invece adesso se ne spreca una scatola al giorno di fiammiferi. Le famiglie di una volta erano tutte numerose e vivevano all'economia. Se dormivamo nelle stalle? No, no. Qui le case sono fatte a calce e non a pietra asciutta, a pietra secco, senza calce, come a Castelmagno. Qui la gente dormiva tutta nelle case. Questa casa dove abitiamo era del conte Martina, una famiglia ricca. Si diceva che i Martina girassero l'oro con la pala. Mio padre ha girato tutta la Francia. All'inverno diventava muratore. È stato a Tolone, Ieres, San Rafael. Oh, ne andavano anche tanti in America. Tony de Pon, Tony de Catalina, Laura Bernardin, Tony del Maisu, Pinsan, Tony de Tan. Andavano nell'America del Nord a fare di tutto. Andavano a Chicago e da altre parti. Si hanno fatto fortuna. Sono andati e sono venuti. Il più che ha portato dei soldi era uno del colle. Alla domenica veniva giù a messa, si metteva sempre la mano nel taschino e poi diceva «Ah, se vuoi che ti impresti qualche soldo». Aveva risparmiato 70.000 lire in 5 anni di America. E all'osteria sfotteva. Quando c'era da pagare il conto, fingeva sempre di non avere i soldi. Ma gli altri, come sono partiti, sono tornati. Si sono guadagnata la vita. Erano andati là per mangiare. Mundin de Giursin è tornato senza un picco, ossia un soldo. Pesana nemmeno un picco. In Francia si guadagnava qualche soldo. Qui c'erano 10 o 12 mercanti di stoffa. Nell'estate arrivavano dalla Francia i rappresentanti con due bauli, con i campionari e i mercanti di qui ordinavano la stoffa. Poi con l'autunno si presentavano in Francia ai magazzini. Prelevavano le pezze, le arrotolavano in una coperta, se le mettevano a spalle e giravano da un paese all'altro a vendere. In primavera, quando tornavano a Canosio, portavano ancora un piccolo gruzzolo. Le masche. Buonanima di mio padre, durante la veglia contava sempre delle masche. Lui andava molto a caccia e io da bambino lo accompagnavo. Aveva un fucile a una canna sola, ad avancarica. Andava a caccia delle marmotte su in montagna. Un giorno passa al pian del Preit e lì vive una donna con due figlie, una donna vecchiotta e la gente diceva che era una masca. Quella donna dice a mio padre. Oh Pietro, e beh, vai alla caccia? Io nel campo dell'orzo ho le marmotte che mi mangiano tutto. E mio padre le risponde. Se hai delle marmotte, vattela a prendere. Ha girato tutto il giorno per la montagna. Non ha visto un uccelletto così. Quella donna l'aveva ammascato. Eeeh, ce n'erano tante masche. facevano del male. Erano furbe. Mio padre partiva presto al mattino. Andava a lavorare al camposanto di San Michele di Prazzo. Prendeva sempre la mulattiera dietro Canossio, la scorciatoia. Sul fondo della discesa c'è una grossa pietra e poi un prato. Una mattina lì dal prato gli salta davanti una capra. Mio padre afferra il martello e glielo lancia contro. Alla sera, quando torna a casa, apprende che in paese c'è una donna con il braccio trusà, rotto, stroncato. Era la masca, la brusera. Io la ricordo la brusera. Una donna povera, che non aveva voglia di lavorare. E faceva girare i tarocchi, le scatole, a uno e all'altro. La gente le conosceva quelle lì. La gente aveva paura delle masche. In paese ce n'erano quattro o cinque. A Lubac viveva una donna con una figlia storpia, che si muoveva soltanto con l'aiuto di due bastoni. Questa figlia storpia correva sempre il rischio di bruciarsi con la stufa. Allora la madre le ha messo una mano sulla stufa accesa, perché imparasse a stare lontana dal fuoco. Sempre questa donna, questa masca, un venerdì che la gente andava a tagliare la legna del comune, ha incontrato un mio cugino che stava scendendo lungo la mulattiera con l'asino carico. Lei saliva con l'asino scarico. La regola era che fosse lei a schivarsi, ma lei non voleva saperne. Allora mio cugino le dice, Mirambunen, io non mi scanzo. Lei l'ha maledetto, così l'asino e il mio cugino è rotolato giù con il carico. Io so ancora il punto dove l'asino è rotolato. La domenica successiva quella donna stava andando a messa. Mio cugino, con un bastone, l'ha picchiata sodo. Mio nonno era caduto malato. Sempre questa donna è riuscita a entrare nella sua casa e ha detto a mio nonno, Oh Battista, cosa fai? Poi con due dita gli ha pizzicato il naso. Mio nonno è poi morto e dove lei gli aveva stretto il naso era del colore del vino. La brucera aveva regalato quattro mele a una vicina di casa che le aveva messe in un cassetto. Quando hanno cercato le quattro mele hanno trovato nel cassetto quattro gomitoli di capelli. Le masche si passavano la discendenza dall'una all'altra. Mio padre diceva sempre, per roba delle masche tocca passare tre ponti e poi andare nella parrocchia a far benedire qualcosa. Da qui andavamo tutti a prazzo. Si portava un grumo di zucchero o un pezzetto di pane al parroco di prazzo perché lo benedicesse. Se il prete era un personaggio importante? Si, era importante. Verso la fine dell'altro secolo Marmora era senza parroco. Allora il parroco di Canosio, Don Bernardin, andava là a dire la messa. Una volta quelli di Marmora gli hanno messo un cane morto nell'acqua benedetta per fare a lui un dispetto. Un altro parroco di Canosio l'hanno invece picchiato. E' riuscito a scappare. Si è poi rifugiato sul nostro campanile della parrocchia. La gente di Canosio era religiosa. Tutte le sere nelle case si diceva il rosario. La gente andava tanto in chiesa. Più che adesso. La domenica il piazzale era sempre pieno. Solo dal colle scendevano 50 persone. Oggi ne scende ancora una. Tony de Catalina. La guerra? Io ho tirato il numero a prazzo. Ero del secondo genio zappatori a Casale Monferrato. Dopo 50 giorni di istruzione sono partito per il fronte. Eravamo forzati. Non pensavo più di salvarmi. Carso, San Gabriele, Montesanto, Castagnavizza, Gorizia, San Michele, San Martino, Montecucco. Ho lavorato un anno e mezzo a scaricare le gallerie del San Michele. Erano piene di torpedini. Un lavoro pericoloso. Da disperati. Nel 1917 sul San Michele era andato al massacro l'undicesimo Bersaglieri. Un anno dopo i morti erano ancora tutti là. Allo scoperto. Nelle trincee i morti erano in piedi. Uno teneva su l'altro. E tutte le parti di ferro erano verdi per via del gas iprite. Le stellette, i chiodi delle scarpe, i bottoni delle giubbe. A Castellavizza ho visto un grande prato tutto coperto di grigio verde. Avevano tentato di conquistare la collina. Li hanno rubati tutti. Cioè li hanno ammazzati tutti. Erano alpini. Tutti morti. Sì che faceva piacere quel prato di morti. Uno accanto all'altro. E la ritirata di Caporetto. Arrivati a San Vito e Tagliamento c'erano due ponti. Uno squadrone di cavalleria insisteva per passare sull'altra sponda. Allora un capitano ha puntato la pistola contro il comandante dello squadrone. Voleva che i cavalieri attraversassero il fiume a Guado. Erano sette le colonne che tentavano di passare. Colonne di camion, uomini, muli, artiglierie, profughi. Una gran confusione. Il ponte è poi saltato con lo squadrone di cavalleria sopra. Gli austriaci erano a 300 metri. E sopra le nostre teste volavano gli aeroplani. Non andiamo più a casa. È la morte. Pensavamo. Un giorno a Bassano del Grappa ho visto un reggimento di alpini che saliva verso le linee. Erano tutti full in hot. Tutti giovani. Che pena che facevano. Davanti avevano la banda musicale e loro dietro che piangevano. Ragazzini di 18 anni. Andavano sul grappa. È un bello ossario il grappa. La nostra vita di oggi. La montagna va a perdere. La gente scappa via. Qui non si vive più. Canosio ha ancora 150 abitanti. Ma non c'è più un contadino giovane. I giovani sono tutti all'Enel, nella Michelin, alla Burgo, alla Fiat. Se la gente della città sapesse la vita che si fa in montagna. La gente della città ci prende ancora in giro. Ci dice che siamo fortunati. Che qui abbiamo l'aria buona. Ma la situazione di oggi non dura. gira gira verrà di nuovo il giorno che ricominceremo da principio. Io non lo vedrò più quel giorno. Ma presto o tardi arriva. Grazie. 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 Grazie.